La mentalità materialistica moderna vede la vita in relazione al successo politico, economico, sociale. Mancando una visione etica e cristiana si può sviluppare una logica del suicidio, della guerra, del razzismo, Gesù afferma che l'uomo vale più del cibo e più del profitto. Di fronte alla produzione e alla vendita di armi di vario tipo, di fronte alle continue sollecitazioni alla violenza che ci giungono quotidianamente dai mass media, come si può parlare di cultura della vita. È più facile parlare di soprafazione, di egoismo, mosso tua vita mea, la tua morte è la mia vita. Santerrino giunge a dire che la gloria di Dio è l'uomo vivente, partendo dal concetto che l'uomo immagine di Dio negli attributi della bontà, della giustizia, della libertà, della santità più che nelle relazioni terrene anche se importanti come quella del sapere, del produrre e del vivere. Dalla paternità di Dio scaturisce la famiglia umana che, come siamo tutti fratelli, perché figli di uno stesso padre, per mezzo di Cristo viene ricostituita la famiglia degenerata nel peccato. Noi non siamo figli del diavolo che porta divisione, uccisione e morte, ma siamo di origine divina. Crediamo che nell'opera voluta da Dio ogni uomo torna a lui come il figlio torna alla casa del padre. L'uomo sollecitato dalla sua passione e dall'influsso diabolico disprezza suo fratello e diventa Caino. Uccidere l'uomo è uccidere Cristo che si è fatto uno e con noi, uno di noi. Sappiamo che Cristo ha sconfitto il demonio, ma può darsi pure che noi lo facciamo risorgere. Dio mette un segno di predilizione sul fratricide, sul Caino, perché nessuno si interroga il diritto, si arroghi il diritto di fare giustizia dell'uccisione di Abele. La Sagra Scrittura contanna una giustizia sommaria che porta alla legge della giungla. Ogni uomo bisogna condannare eventuali crimini, ma senza nulla togliere alla necessità di espiazione. La persona va sempre rispettata. l'uomo fosse pure un mostro rimane sempre un nostro prossimo. La vita è un trono di Dio e solo lui ne può disporre. Mediante i suoi precetti e l'istinto di sopravvivenza vuole che diventiamo e amiamo chi coloro che ci hanno preceduto nella vita o che ci seguiranno. Essere dispensatore di amore, essere dispensatore di gioia, di serenità e di amore. Padre Pio ci ha dato la testimonianza che non faceva passare nessun momento in cui c'era stato un momento di pausa pesante senza che lui non la riportasse alla gioia e alla serenità.